I Padovani nel mondo Le nuove generazioni che è vero, tante volte per far fortuna devono a loro volta espatriare, ma con un motivo nuovo che è quello di pensare che ci possa essere la possibilità di ritornare a breve o a medio termine a fare anche il bene del paese in cui sono nati, la provincia di Padova, il Veneto, l'Italia, insomma sentirsi cittadini del mondo a tutto tondo. Abbiamo dei bravissimi ragazzi che hanno orato proprio l'Italia nel mondo, che sono partiti con la buona volontà e sono ritornati anche per lasciare a noi le loro esperienze ed è giusto che abbiano questo premio che come Presidente dei Padovani nel mondo gli diamo, lo meritano. Abbiamo dei ricercatori, abbiamo anche l'autorapia che ha molti anni della sua vita è stata all'estero, perciò esperienze, maturità che abbiamo bisogno tutti. Io mi auguro che l'Italia guarisca un po' di più, che dia più spazio ai giovani, perché in questi anni dei miei mandati ho sempre lavorato per i giovani perché sono il futuro dell'Italia. Io spero che anche i nostri che sono all'estero possano rientrare nella nostra Italia. Grazie a tutti.